29 agosto 2019 Martirio di San Giovanni Battista Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6 In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata Giovanni infatti diceva ad Erode Non ti è lescito tenere con te la moglie di tuo fratello Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere ma non poteva perché Erode temeva Giovanni sapendo l'uomo giusto e santo e vigilava su di lui Nell'ascoltarlo restava molto perplesso Tuttavia lo ascoltava volentieri Venne però il giorno propizio Quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionali della sua corte gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea Entrata la figlia della stessa Erodiade danzò e piacque Erode ai commensali Allora il re disse alla fanciulla Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò E le giurò più volte Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò fosse anche la metà del mio regno Ella uscì e disse alla madre Che cosa devo chiedere? Quella rispose La testa di Giovanni il Battista E subito entrata di corsa la re fece la richiesta dicendo Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni La guardia andò lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre I discepoli di Giovanni saputi il fatto vennero ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro Il Battista era stato definito da Gesù l'Elia che doveva venire e il più grande fra i nati da donna e fu ucciso per volontà di una donna adultera per mano del suo convivente Giovanni, uomo di tale elevatura il cui nome splende nel cielo e sulla terra verrà sempre celebrato fu ucciso da persone così moralmente basse e insignificanti L'assassino è sempre uno squario individuo mossa da interessi materiali e viechi incapaci di guardare oltre se stesso alla storia dell'umanità Ai destini eteri è dal ruolo così importante di certi uomini ma in fondo troviamo lo stesso con Gesù Il Salvatore di miliardi di anime che lo lodano incessantemente devono contemplare la morte terrena di Gesù per un intrigo di un piccolo gruppo di persone aggrappate al loro meschino potere di un giorno sulla terra La grandezza e la gloria si scontrano con la miseria e la massezza Il Padre Celeste chiese il suo sangue per mano di minuscoli uomini Allora fu concesso la vittoria di un momento tutto il male fu liberato e reso capace di colpire chi portava alla luce della verità e della purezza Il perché sta molto oltre le apparenze La morte inferta per mano dei prigionieri del maligno se accettata diventa produttrice di vita per decreto dell'Altissimo poiché chi la subisce ne fa offerte espiatrice a Dio e ottiene dal Padre il potere di liberare i prigionieri del male quegli stessi che sono armati dal maligno contro coloro che il male non lo accettano e non si piegano al compromesso né per bisogno né per paura Leggendo le parole asciutte del Vangelo vediamo che Giovanni difese la legge di Dio custode della santità del matrimonio Erodiade che evidentemente aveva lasciato il marito per calcolo si era accompagnata d'Erode per regnare attraverso di lui Giovanni suscitava timore in Erode lo ascoltava volentieri vegliava su di lui Erodiade per questo temendo che la sua posizione di regina le venisse tolta voleva uccidere il testimone della verità ma non poteva però per la protezione del re l'occasione capitò e le debolezze di Erode vennero ben usate la danza della giovane figlia della moglie la promessa fatta davanti a tutti l'orgoglio di non retrocedere per il giudizio dei suoi commensali e cortigiani fecero cedere il frasile baluardo del timor di Dio del re per cui Erode preferì sacrificare la testa della profeta anziché quella del proprio orgoglio Vediamo dunque un copione che si ripete nelle piccole e grandi storie di conflitto tra bene e male tra Dio e il maligno da entrambe le parti è costituito una serie di mediatori che servono Dio o il nemico chi muove i malvagia i malfattori è il capo che agisce nelle tenebre e coloro che lo servono per interessi personali o altri motivi anche particolari diventano pedine che colpiscono anche i grandi alfieri di Dio La bassezza di Erode unitamente all'ossurio e all'orgoglio di Erode si concatenarono bene per colpire Giovanni Il mandante però fu il nemico della luce di Dio La vittoria di Dio sta invece nella mancanza di odio nei suoi servitori del cui sacrificio si serve per salvare chi non è capace di tanto eroismo Dio vi benedica